è per colpa tu si stanno carcerati ma perché è per colpa mia ma non è possibile che è un anno che mi stai rinfacciando che stanno carcerati per mia mia ma che ci fate male? ma come che fate male? non stiamo a fare rapine niente a banca non fuori male ma che hai fatto? ti sei già scordato? hai fatto male? hai fatto male? hai fatto male? ma qua tutto il tempo tutto non si chiude? un minuto solo Aldo me ne sono giude un minuto solo ecco il minuto solo sono arrivati i carabinieri e ci hanno portato ma se posso sapere dove si chiude Aldo i fuori a banca che stai facendo? o Paolo! ah mentre gli facevo Paolo è venuto qua e mi ha pisciato colpa e sono tornato a barramma la vocazione che stai? tu?